Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti qui da Io ci sto. Oggi è una serata di Halloween e non potevamo non presentare un libro che in qualche modo ci portasse in questa atmosfera un po' particolare. Infatti oggi noi presentiamo Fantasma in Tribunale di Massimo Sensale. Benvenuto Massimo. Grazie a tutti. Ma siamo anche un'associazione di promozione sociale. Da qualche anno infatti il nostro impegno costante e attivo nella città ci ha dato questo privilegio e questo onore. Non vi trattengo raccontandovi tutte le cose che abbiamo fatto e che vorremmo ancora fare, soprattutto col vostro aiuto. Perché per poter portare avanti questa realtà un ruolo fondamentale lo hanno i soci. I soci sono l'anima di Io ci sto. Sono la mente e il cuore. Proprio per dare la possibilità a tutti di far parte di questa grande comunità, per la prossima campagna associativa daremo la possibilità ai nuovi soci, cioè a coloro che per la prima volta decideranno di associarsi, di pagare la quota di 30 euro invece che 50 euro, che è la quota che da tanti anni ci garantisce di avere lo sconto sempre sui libri. Uno sconto che dal 5% è stato innalzato al 10% per tutti i soci. Considerate che le librerie di Catena non lo fanno questo sconto. Quindi è un grande impegno che noi prendiamo nei confronti di chi ci dà fiducia. E inoltre l'associazione ci garantisce di avere dei costi anche molto concorrenziali nei confronti degli eventi, dei laboratori, perché organizziamo tantissimi laboratori per bambini e per adulti. C'è un laboratorio di musicoterapia per bambini che è in corso d'opera. C'è un laboratorio di canto per adulti aperto a tutti, che è pure in atto. Se volete le informazioni le potete chiedere all'ingresso. Ci saranno altri laboratori in attivazione, addirittura anche uno sulla storia della musica rock, che si attiverà con il prossimo anno. Insomma, veramente un bel po' di attività. Per ogni informazione la potete sempre chiedere a noi volontari, perché siamo tutti volontari, appassionati, tranne Alberto, che è il nostro libraio e la nostra guida del resto, non potevamo non avere una figura professionale di alto livello per poter portare avanti questa realtà. Mi chiedo scusa per la mia voce, ma purtroppo diciamo un po' di bronchite. E adesso entriamo nel più di quest'opera. Io innanzitutto sono molto contenta di essere qui oggi. Io faccio tante presentazioni per i Ocisto, ma questo è particolare, perché non solo sono legata da stima e da affetto nei confronti di Massimo Sensale, ma questo libro non vi dico che è un libro bello. Sarebbe scontato dire che sono contenta di presentare un libro bello. È un libro molto molto particolare perché ci consente di compiere un vero e proprio viaggio, un viaggio che segue un percorso reticolare, non lineare, perché è un viaggio attraverso il tempo, un tempo che è il tempo quello nostro, il tempo che noi misuriamo, matematico, il tempo dell'umanità, ed un tempo incommensurabile che è quello dell'aldilà. Viaggeremo nello spazio perché attraverso questo libro noi passeremo dall'America all'Europa, all'Italia, alla nostra misteriosa città e poi passeremo dal diritto, quindi dalle leggi, dai tribunali, infatti il fantasma in tribunale è proprio questo il focus, ma passeremo anche attraverso quelle che sono le credenze popolari, il folklore, che poi nella nostra città ci sta benissimo. E quindi ci ho detto, io passo innanzitutto la parola al Massimo. Così, senza che mi fai una domanda, argomento al piacere. Se non va bene, se non va bene stasera. Eh, non so, ma non mi ero preparato all'argomento al piacere. Dico, vabbè, mi regolo, sulle domande, abbraccio, quello che... Più o meno in genere viene a casa. Così che riesci a fare, va. Eh? Così che riesci a fare. Allora, che vi devo dire, questo dippero nasce da una curiosità specifica, e cioè da una sentenza del pretore di Pomigliaro all'arco del 1927. Eh, una causa civile tra un inquilino e il locatore, proprietario di casa, in cui l'inquilino chiedeva la risoluzione del contratto, quindi la cessazione anticipata del rapporto e locazione, perché la casa non era idonea all'uso in quanto infestata dai vantassi. Il locatore, naturalmente, si era costituito in giudizio, si era difeso, comunque vengono ammesse le prove testimoniali, vengono sentiti i testimoni e il pretore, da ragione all'inquilino e dichiarava la cessazione del rapporto di locazione. Ora, l'interesse, la curiosità relativa a questa sentenza, che peraltro era annotata, aveva una nota di commento a firma di Giovanni Leone, anche se in realtà non era lui che l'aveva scritta, l'aveva scritta il padre, perché Giovanni Leone all'epoca aveva solo 19 anni, il padre non si poteva firmare perché era l'avvocato della parte vincitrice della causa. La mia curiosità era quella di vedere come le categorie giuridiche, che nel 1927 relativamente al diritto delle locazioni, ma in genere il diritto civile, non erano molto diverse da quelle attuali, reagivano a una situazione del genere, a una iniziativa giudiziaria del genere. La curiosità di capire come il giudice si dovesse porre rispetto alla prospettazione di una casa infestata, un giudice che naturalmente non poteva decidere sulla base di proprie personali opinioni, non poteva dichiarare inammissibile la domanda perché i fantasmi non esistono, non aveva il diritto di affermare che i fantasmi non esistono, come si dovesse porre rispetto alle richieste istruttorie, e come dovesse poi interpretarne l'esito. Mi sono chiesto anche, per esempio, non era questo il caso, ma supponiamo che l'inquilino avesse detto di notte compare un fantasma e quindi io non posso abitare in questa casa. Supponiamo che il locatore convenuto in giudizio avesse detto non che non è vero niente, provamelo che c'è il fantasma, ma io ho immaginato che potesse dire sì è vero, c'è un fantasma di notte, è la mia prozia domitilla, ma è una bravissima persona, non ti preoccupare, non rende la casa inidonea all'uso abitativo, è un fantasma assolutamente pacifico, innocuo, e mi sono chiesto, rispetto al principio di non contestazione dei fatti allegati, come si sarebbe dovuto regolare? L'attore allega un fatto, il convenuto non lo contesta e quasi quasi, io perciò ho voluto Michele Caccese che mi assistesse in questa presentazione, avrebbe dovuto ritenerlo provato e regolarsi di conseguenza. Da questa curiosità giuridica poi sono andato alla ricerca di altri casi giudiziari e ne ho trovati veramente tanti, anzi devo dirvi, ma non è una minaccia, tanti casi giudiziari sono rimasti fuori da questo libro e io mi riservo di fare un sequel, perché ho dovuto fare una selezione, non solo una selezione, ma ho dovuto anche concentrarli in poche, diciamo in capitoli molto brevi, molto variegati, inframmezzati anche da qualche capitolo, diciamo così, autobiografico. Cominciando a leggere il libro, il libro finge di essere un romanzo, poi dopo 4-5 pagine faccio sparire la vicenda romancesca sotto le digressioni varie, poi riemerge questo romanzo, poi si inabissa di nuovo e alla fine gli ultimi righi si conclude. Mi sono reso conto che scrivere un libro di 200 pagine sui fantasmi, le case infestate, sarebbe risultato noiosissimo e quindi ho cercato di raccogliere vicende molto variegate, molto singolari, non solo delle locazioni, ma di diritto di famiglia. Ehi, il nostro Presidente, ci onora. Mi fai diventare rossa. Beh, io sono spontaneo, lo sai, se mi viene un moto di sorpresa lo manifesto. Quindi voleva venire neanche di peggio. Sarei stato sincero, diciamo. E quindi, insomma, sono tranquillo su questo. Ci sono vicende di diritto familiare, relazioni extraconiugali con i fantasmi, divorzi pronunciati in casi di questo tipo. Insomma, c'è una grande varietà di situazioni che arrivano fino a un'epoca relativamente recente. L'ultima sentenza napoletana citata è del 1970, ma c'è una sentenza milanese molto più recente, del XXI secolo. Vabbè, io non so che altro di rispetto del... A proposito, tu hai detto, il libro comincia in un modo, ci dà l'idea di essere un romano, però alla fine non lo è. Vogliamo vedere questo inizio, anche perché è singolare, perché comunque ci sono tanti sprazzi in questo libro, in cui esce anche il massimo la sua vita, quello che ha visto, quello che ha vissuto, in qualche modo relativamente a queste tematiche. Giovannino, che Dio l'abbia in gloria, portò in casa nostra il commento degli spiriti. Nei fantastici anni Sessanta della mia infanzia, la visita dei fratelli Clotto, amici di gioventù di mio padre, era ogni volta una festa. Carlo assumeva pose da intellettuale, disertava di musica e di lettere, e più tardi avremmo scoperto che scriveva poesie nelle casilla bisciolti. Erano versi di foggia antiquata, ma non così scadenti da meritare il dileggio camuffato da serioso apprezzamento degli amici, i quali consideravano Carlo uno spiantato, ma di poesia non capivano un'acca, e avrebbero dileggiato anche quelle di Montale, se Carlo le avesse spacciate per sue. Giovannino era diverso, un ragazzone burlesco dalle trovate originali e l'inonia spumeggiante. A quell'epoca praticava arti marziali, forse judo, ma non per spirito sportivo, ma, come se più tardi, per esigenze di lavoro. Figlio di un valentissimo avvocato, nipote di un deputato, reo a suo dire di non averlo sistemato, Giovannino si arrangiava a fare l'amministratore di condomini, in perdita perché anticipava di tasca sua le spese e i condomini non lo rimborsavano. Per finanziarsi si dedicava anche al recupero crediti nei bassi fondi di Napoli, dove le questioni non si regolavano sempre in punta di codice e le eccezioni più in voga tra i debitori inadempienti suggerivano di prendere per tempo di mestichezza con tecniche di difesa personale. Eppure anche il recupero crediti, come tutto quel che riguardava Giovannino, dava luogo a stravaganze, come quando, ci raccontò, un debitore irriducibile dall'aspetto trucido lo accolse con in mano un grosso paio di forbici spiantate e gli tagliò la cravatta. Ogni volta Giovannino ci dava dimostrazione delle tecniche di lotta giapponesi apprese di recente e io, piccolo e gracile, ero scelto per fare la parte dell'aggressore, che poi veniva spiazzato, sbilanciato, piroettato, capovolto, strapazzato, lanciato più o meno in volo libero, sempre, devo dire, in assoluta sicurezza e con atterraggi morbidi, protetti, sicché l'apnea era dovuta più all'ebbrezza che alla paura. Giovannino ci piaceva, perché non era un adulto che si degnava di spufazzare i bimbetti per qualche minuto, ma era a sua volta un eterno bambino che giocava con noi da pari a pari. E poi, come dicevo, tirò fuori il discorso degli spiriti, delle case infestate, che puntualmente andava a verificare di persona, con appostamenti notturni e fede incrollabile, nonostante i risultati deludenti. Ci raccontava, per esempio, che passava delle notti ai piedi di un maniero di Monte Calvario Irpino, Monte Calvo Irpino, scusate, in atteso di vedere o sentire le presenze di cui si parlava allora negli ambienti dello spiritismo. E perbacco, come altro poteva chiamarsi il lugu per il luogo di fantasmi, che mi rimandava alla ridda di streghe e diavoli nella notte di San Giovanni sul Monte Calvo di Mussoschi? Buonasera a tutti. Massimo, scusate, io ho preso degli appunti. Noi siamo amici e colleghi di sezione, quindi ci vediamo in Camera di Consiglio, perché almeno io ho una certa età, quindi se non mi porto gli appunti non me ne ricordo le cause, perché qua poi è complicato assai. Allora, no, questo è un libro che ho letto veramente in maniera simpaticissima, bella, e devo dire Massimo in questo libro ci accompagna in una serie di territori che sono più di uno, perché ci sta effettivamente la genesi di questo libro, ve l'ha raccontato, c'è una curiosità per varie vicende giudiziare in qualche modo legate con gli spiriti, i fantasmi, il metafisico, e ci sono raccontati veramente moltissimi casi che si sono verificati a Napoli, in Italia, in Inghilterra, in varie epoche storiche. Poi ci sta il livello delle questioni giuridiche, perché poi si fanno sorridere, ma comunque sono questioni, poi magari le affrontiamo un pochino per quello che posso fare io. Poi ci sta il livello, perché in realtà in questo libro si intersecano il profilo narrativo, quello lì, saggistico, storico, giuridico. Poi ci sta l'elemento autobiografico, ovviamente, perché poi Massimo si inizia come un romanzo, ma in realtà poi Massimo ha questa grande capacità ironica, fantastica di raccontare e tra lei come tutti gli... Secondo me lui è un grande scrittore, comunque... E lui nel raccontare qualsiasi cosa racconta a se stesso le sue esperienze. Questa è una manifestazione di egotismo, però. Vabbè, ma te la sto dicendo io. E niente, e poi secondo me ci sta una riflessione che attraversa tutto il libro, che è quella lì, un po' quella della tensione che esiste tra il positivismo, il razionalismo e il mondo emotivo e il mondo dell'inconscio, anche, ovviamente. perché poi il confine che c'è tra il paranormale e l'inconscio spesso è sottilissimo. I fatti che lui ha narrato, queste vicende giudiziarie, sono tantissimi. ne seleziono giusto qualcuno che a me hanno colpito di più. Ci sta il caso di Piazzetta o Largo San Carlo alle Mortelle che mi ha colpito moltissimo. Anche perché la vicenda io la conoscevo. Infatti ne parlavamo, no? Dice, ma come la fai a conoscere? non mi ricordo ma anche perché la conoscevo, però ne avevo letto. Poi al civico sette del Largo San Carlo alle Mortelle abita e abitava da sempre un mio amico fraterno proprio al numero sette e quindi era un luogo che io frequentavo tantissimo da ragazzo e ancora adesso. Poi appunto c'è la targa un paio di targa come si chiama? Alta Mura e poi Domenico Morelli Domenico Morelli e poi ci sta quel bellissimo riferimento che a me ha colpito tanto della citazione del romanzo di Enzo Striano e il resto di niente perché Eleonora la protagonista del romanzo di Fonseca Pimentel abitò lì nel breve periodo del suo matrimonio sciagurato insomma perché lei appunto subì un sacco di angherite da questo marito da questo che era un militare militare dell'esercito però a proposito di poi devo dire una cosa un'errata vabbè ma non è un'errata corrigio no 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 è un'errata corrigio ma non è un'errata ma non potrebbe essere una licenza letteraria a monte allora ho scoperto dopo aver pubblicato lì ma l'avrei pubblicato lo stesso in un brano diciamo virgolettato quindi una citazione testuale del romanzo di Enzo Striano Il resto di niente lui dice che dopo la morte del figlio di Eleonora Pimentel Fonseca avvenuta nel 1779 il ragazzino la morte del ragazzino lei era ossessionata e andava continuamente nella chiesa di San Carlo dove ci sarebbe la tomba di questo pane non sono riuscito mai a andare a controllare e era ossessionata dalle note del regue di Mozart che qualcuno suonava all'organo il regue di Mozart è stato composto nel 1791 quindi 12 anni dopo questo episodio e ho un paggio quello di Mozart che già esisteva già esisteva esatto oppure insomma ho scoperto nel romanzo di Enzo Striano insomma mi ha fatto sentire un pochino diciamo gasato infatti anche io mi riservo di andare un'altra volta a vedere se ci sta veramente la tomba di Cristo questa è una chiesa molto bella che ha subito una chiusura di quasi dieci anni perché ci fu ci sprofondò che era il 2009 mi pare è una cosa e quindi ci voleva parecchi anni per riprenderlo eccetera eccetera e no io volevo dire a proposito di questo volevo leggere anche io approfitto di rubo un po' la scena no no perché lui parla così ma certo mi è piaciuto tantissimo lo voglio dire nelle mie passeggiate cittadine ora torno spesso a San Carlo alle mortelle sperando con una certa apprezzione che attraverso una smagliatura del tempo io riesca a captare frammenti delle voci di un mondo antico a intravedere le ombre dei personaggi che vi hanno abitato e patito o almeno a sentire il profumo delle piante di mirto perché quello San Carlo alle mortelle prende il nome della mirto che fin dal cinquecento avevano reso il poggio sotto la collina di San Martino e a monte di Chiaia un lungo a meno un lungo un luogo a meno ideale per l'edificazione di conventi a partare di ville e patrizia poi ci sta un'altra cosa a parte che lì c'è questo mio carissimo amico io abito proprio là vicino quindi è una cosa che veramente mi ha colpito per quanto riguarda ecco le questioni un accenno alle questioni giuridiche la sentenza del del pretore di Marigliano effettivamente credo che sia l'unico caso almeno l'unico caso in cui la domanda è stata acconta esattamente ci sono dei precedenti in cui la domanda è stata acconta sempre in qualsiasi modo si arrivano in questo che forse la causa è nobilitata da tale patrocinio insomma arrivò all'accoglimento la cosa che mi ha colpito è che il pretore riformulò i capitoli di Procco perché erano generici perché erano troppo generici cosa che non si potrebbe fare io qualche volta prima li riformulavo mi annoio però la Cassazione ha detto che non si può fare non si può tutti giudici che cosa si chiama allora ecco cioè quando in giudizio bisogna dimostrare un fatto che è determinante ai fini del buon esito della causa bisogna provarlo e la prova nel processo civile si deve articolare in maniera specifica la prova testimoniale la prova testimoniale per capi specifici e ovviamente la prova deve avere ad oggetto non valutazioni giudizi suggestioni ma fatti allora evidentemente questa prova era abbastanza generica il pretore la riformulò probabilmente effettivamente anche all'esito della riformulazione rimaneva generica però probabilmente lui se la riformulò poi nella prospettiva di poterla accogliere è stata ma insomma credo e poi appunto questa questa vicenda fu resa nota anche perché Giovanni Leone o il padre ma però scusami come Paganini no Paganini scusami il nostro Accardo pare che lui sapesse suonare sin da piccolo cioè sin da 3-4 anni in maniera sia pure molto sì ma lo stile di quella però Leone poi non l'ho letta la cosa di Leone probabilmente era un genio precoce no vabbè il padre l'avvocato gliela scritta lo stile di quel commento è molto che manco Guirino come si chiama ah neanche Guirino ma non ci riderebbe insomma è un'enfasi molto antiquata molto certezza vabbè comunque no sì allora il Giovanni Leone insomma invece stanotte in cui si dilungò su ciò che dovesse essere provato che poi la questione effettivamente che attraverso tutte queste controverse al di là del fatto se esistono non esistono gli spiriti e di cosa bisogna provare per poter riuscire ad ottenere la risoluzione del contratto perché la casa è infestata dagli spiriti no perché poiché tutte queste queste case erano impostate giusto a mezzo sulla questione del vizio cioè che il bene non era idoneo a garantire il godimento della casa no allora cosa si doveva provare il fatto che che ogni tanto veniva il fantasma che io mi spaventavo oppure come giustamente iniziano ad elaborare i vari giuristi il fatto che ci fosse una sorta di fama preesistente alla stipulazione del contratto che in quella casa vi fossero presenze inquietanti allora lì effettivamente si inizia a delineare quello che potrebbe dar luogo ad una controversia che vada a buon esito per l'inquilino diciamo così no perché se il proprietario diciamo sapeva di questa cosa no magari precedenti proprietari come in un altro caso di via Concezione a Montegalvare mi pare no un precedente conduttore se ne era andato proprio per questa ragione allora è chiaro qua si entra in un territorio effettivamente più di maggiore consistenza che il caso del subantino certo poi a monte di tutte queste questioni ci sta pure quell'altra questione che pure fu trattata no cioè delle due concezioni della presenza metafisica di fantasmi cioè quello dello spiritismo e quella del del medianismo perché lo spiritismo è legato a una sorta di di elemento di realità della casa nel senso che gli spiriti sono coloro che hanno abitato nel passato in quella casa e che in quella casa vogliono continuare a stare no invece la teoria del medianismo attiene invece a che cosa al fatto che le presenze ultraterrene sono attratte dal dal fatto che nella casa vi sia qualcuno che è dedito per esempio all'estituto spiritico allora qua che c'entra il locatore no non potrebbe rispondere ce l'hai portati tu ce l'hai portati tu esatto è quella e questa è un po' la cosa che si agita dietro la parente la parente lo fate impressionare dal tono troppo sedimi che rega cese non pensate che io credo tutte che bagianate perché da come ne parla lui mi sembra io veramente in mio istinto credendo che abbiano un fondamento no sono tutte stupidate però il suo tono io invece apro un'altra parentesi apro un'altra parentesi e chi ne sappiamo che lui veramente non ci crede tu non lo sappiamo ma non dimmi che non hai mai fatto una situazione spiritica sì no è il tuo è il tuo ho messo la radio ho detto io non so perché io non so questo libro se non vissi prima a fare una situazione a proposito se io credo non credo no non è irrilevante allora la domanda non è se i fantasmi esistono o non esistono il libro dà per scontato che i fantasmi esistono e io ci credo il vero problema è dove abitano i fantasmi e ci sono varie teorie su dove abitano i fantasmi a me sembra quella più attendibile è quella di Freud e dei suoi seguaci i fantasmi abitano qua ma che esistono non c'è dubbio sono d'accordo sono d'accordo no posso dire una cosa ma sì allora in effetti stiamo parlando di giurisprudenza di diritti in maniera molto come dire competente tecnica però io vorrei tranquillizzare tutti i non addetti ai lavori compresa me che il massimo ha la capacità di parlare di questi argomenti in una maniera talmente con un linguaggio pulito sfrondato che chiunque di noi può entrare e capire la razza delle cose infatti a proposito parlando di questo conflitto tra la prova quindi tra qualcosa di obiettivo e qualcosa che invece obiettivo non è come possono essere le credenze qualcosa di non dimostrabile massimo ci conduce su un terreno molto importante che è quello del rapporto tra ragione e sentimento e affrontato dal punto di vista di chi è investito del potere di giudicare secondo me è una cosa straordinaria infatti a un certo punto lui parla di sentimento e sentenza e quindi se magari ci vuole spiegare un attimo per chi lo sa non ho fatto tanta fatica a scriverlo che poi a dirlo a voce no perché perché lo sa secondo me vogliamo leggerlo perché è benissimo è un elemento è previsto e vogliamo leggerlo si chiama quello che si capisce però se non si capisce una volta ti insegnava che la sentenza è il frutto di un silogismo aristotelico premessa maggiore la norma premessa minore il fatto conclusione la sentenza la razionalità era considerata il paradigma della giurisdizione e la garanzia dell'imparzialità del giudice intuizioni impressioni sensazioni emozioni erano considerati elementi distorsivi della corretta formazione del ragionamento giuridico e patologie della sentenza da prevenire e reprimere oggi sappiamo che non funziona così in nessun ambito nella vita né del diritto Iaron Frank esponente di spicco della corrente del realismo giuridico americano sosteneva che la certezza del diritto è solo un'illusione degli uomini perché la sentenza non è mai del tutto prevedibile bensì frutto di un ragionamento anche intuitivo di un giudice che prende una decisione prima ancora di spiegarla più drasticamente Frank giunse a dire con aforisma di rara efficacia e di grande successo che il giudice si pronuncia in base a quello che ha mangiato a colazione ciò spiega la mia personale cura nel far sì che il passo mattutino sia uniforme ed equilibrato al di là delle frasi effetto è vero comunque che emozione e ragione non sono più considerati concetti antitetici negazione l'una dell'altra anzi come dice il neuroscienziato americano Joseph Ledoux una mente senza emozioni non è per nulla una mente Umberto Galimberti parla di risonanza emotiva significa sentire prima di mettere in moto la ragione la risonanza emotiva nasce con l'empatia strumento essenziale anche nell'interpretazione e applicazione della legge l'empatia applicata alla pratica giudiziaria negli USA è oggetto di studio soprattutto da quando nel 2007 l'allora candidato alle elezioni presidenziali Barack Obama definì l'empatia un requisito essenziale per coloro che intendono assumere il ruolo di giudice del tribunale di ultima istanza del sistema giudiziario federale degli USA da allora negli USA si è sviluppato un vivace dibattito sulla funzione dell'empatia nel diritto strettamente connesso agli spazi della discrezionalità interpretativa nell'esercizio della giurisdizione si è formato un movimento di giuristi sotto la definizione di law and emotion favorevole all'uso giudiziario dell'empatia perfino nell'interpretazione della costituzione americana certo le suggestioni emotive possono interferire con il ragionamento portando a conclusioni sbagliate ma l'idea di un apporto emotivo che sta a accendere la miccia di un percorso razionale è ormai acquisita negli studi di psicologia della decisione le emozioni possono farci capire meglio il fatto il fatto ha più dimensioni più strati la ragione riesce a sondare gli strati superficiali ma l'emozione penetra negli strati profondi attraverso l'intuito l'emozione entra in gioco nel cercare la verità sotto la superficie questo passo è bellissimo perché io all'inizio dicevo che uno degli aspetti di questo libro è proprio questa tensione che esiste tra il razionalismo e ciò che è al di sotto della sfera presunta razionale e Massimo che poi io per come ho avuto modo di conoscerlo lo manifesta proprio quotidianamente questo veramente per me è stata una grande scoperta perché non di solito lo manifesta il martedì e quindi no io dico secondo me un magistrato così dovrebbe essere così dovrebbe essere così perché a parte che lui diciamo nel riferire queste cose ha fatto un richiamo a quello che il mondo moderno di intendere la giurisdizione e il processo decisionale ci sta lui è implicitamente richiamata la teoria di Gadamer che lui scrisse il momento centrale della interpretazione ma non solo giuridica di qualsiasi dell'opera d'arte dei testi sacri e nel senso che colui che interpreta attribuisce elementi di realtà all'oggetto dell'interpretazione e questo vale ovviamente anche per e soprattutto per il mondo della giurisdizione anzi proprio ci sono state delle derive di pari pazzeschi ci sono state da parte i giuristi americani sulla base di tesi di Derrida e le cosiddette teorie decostruzioniste ma questo non ci riguarda però effettivamente la cosa straordinaria è proprio questa ma io dovrei leggere forse anche un piccolo devo rubare il mestiere a Maria perché effettivamente quando Massimo parla di Giovannino Klopp che era questo personaggio una specie di guitto insomma io nemmeno immagino così una cosa molto bizzarro a un certo punto Massimo che poi all'epoca era adolescente immagino all'inizio è stata una presentazione di molti anni è stata molto lunga diciamo fino alla sua morte oltre oltre no per quanto ci avesse promesso di continuare anche dopo visto che aveva una fede così incrollabile sui fantasmi e dice vabbè dopo vienici a trovare ugualmente ma non si è fatto a me ha molto colpito questa cosa Massimo riguardo a Giovannino dice così non potevo capire allora che la passione per gli spiriti per un altro mondo sia pure di tenebre era per Giovannino una fuga inquieta dalla realtà che già a quei tempi non doveva apparirgli benevola e poi riferendosi a se stesso dice una cosa secondo me bellissima il fatto che anch'io ho preso interesse e di una ironia autoironia che è quello che lo caratterizza il fatto che anch'io ho preso interesse agli spiriti me lo spiego oggi più o meno alla stessa maniera perché la mia indole nuvolosa e la mancanza di talento per la vita mi avrebbero sospinto negli anni a venire verso mondi immaginari messi insieme assemblando a modo mio il materiale che andavo raccogliendo disordinatamente cioè una cosa straordinaria secondo me straordinaria e poi anche il finale perché poi alla fine questo personaggio poi indusse a fare delle sedute spiriti con un bicchiere a casa insomma pareva oltre tu curavi Massimo curava che è stato pure qualcuno ah ci sta ah quindi erano seconda allargata devo dire che anche a me capita a casa mia pure si facevano queste cose mia mamma era molto sedita cosa e poi è chiaro che è tutto un fatto inconscio perché nessuno si metteva là si vedeva chiaramente che il dito muoveva il bicchiere però ma non era un fatto volutivo pure io rimanevo ma come è possibile che cosa facciamo vabbè comunque a un certo punto quanto ho potuto capire questo giovannino veniva meno cioè venivano meno tutti gli altri si metteva solo lui da solo a fare le domande è una delle letture previste questo nome e allora lo vedi direttamente e poi alla fine vi leggo giusto stacato no no sono stacato no perché vedi ma tutta quella pantomima cioè alla fine di queste sedute no vedi la tensione proprio la razionalità e il mondo dell'inconscio ma tutta quella pantomima quel teatro di penombre di musica quell'atmosfera gotica che ci sforzavamo di allestire mi si rivelava come una metafora della deriva umana lasciandomi un gelo più sfaventoso della carezza di un fantasma qui sono stato un po' come lo drammatico allora il libro deve andare bene per tutti ognuno deve trovare la sua cosa io non ho finito di leggere lì non è ancora finita no e quindi questa parte non me lo è questa sera è un po' spaventoso stare bene ognuno si deve trovare questo ma ti ho risso io mi sono pure appropriato un personaggio di un tuo romanzo un'onorato un'onorato della situazione che potrei anche ricevere la giustizia cosa è il fantasma del conte Trampetti che aveva questa particolarità che nella vita la moglie l'aveva talmente annoiato che lui rimasto da fantasma nella casa invece di tirare trascinare le catene sbadigliate la sua presenza è la signorana degli sbadigliati è un fantasma molto educato si è educato ma insomma senza la moglie non la vido ma non poteva fare la moglie è noiosa e anche il marito insomma dipende ma voglio dire il fantasma che ha continuato a sbadigliare anche le loro le catene chi muove le cortiere e lui sbadigliato allora che dobbiamo fa? no è un bambino 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 qualche volta partecipato e se lo ricordo vediamo se andiamo a bicchiere bicchiere? andiamo a bicchiere a bicchiere? a bicchiere i fratelli Klopp venivano a casa soprattutto a praticare il gioco del bicchiere così come qualcuno che non ricordo ce l'aveva insegnato e denominato un nome banale sia associato alla comunicazione con l'oltretomba tant'è vero che altri lo definivano telescrittura ossia scrittura a distanza la distanza tra lo spirito comunicante allocato chissà dove e il bicchierino capovolto su un tavolo dalla superficie liscia e scorrevole intorno al bicchiere erano sistemati in cerchio tanti tastelli o bigliettini su ciascuno dei quali era stampiata una lettera dell'alfabeto più un sì e un no nel caso in cui l'intervista allo spirito prendesse la piega delle domande a risposta sicca sul bicchiere rovesciato ciascuno poggiava leggermente il dito indice e a un certo punto il bicchiere cominciava a muoversi avvicinandosi ora all'una ora all'altra lettera per completare il suo discorso per compitare il suo discorso e di modo di riflettere a lungo sul fenomeno e ancora oggi sono convinto che tutti i partecipanti fossero in buona fede è chiaro che il movimento era impresso meccanicamente dalle dita togliendo le quali il bicchiere all'istante si fermava ma la spinta meccanica era involontaria inconsapevole incontrollabile altrimenti i risultati non sarebbero stati negli anni così deludenti quasi inutili quasi nulli se qualcuno fosse stato in mala fede avremmo di sicuro parlato con Socrate o Cicerone o meglio ancora con qualche nostro antenato si studiavano accorgimenti e rituali come dopo in questi casi la posizione reciproca dei partecipanti i tagli di luce infine la musica di sottofondo mi incaricavo io di attingere dal nostro immenso ripertorio di vinili e nei nastri registrati preparavo le scalette come un disc jockey dell'occulto valutando di volta in volta quali musiche potessero creare la giusta atmosfera e la migliore sintonia tra le nostre menti ansiose di captare segnali intellegibili da un mondo sconosciuto e chi da quel mondo volesse comunicare con noi andava forte la musica dovecafonica benché nessuno di noi avesse mai riflettuto sul perché gli spiriti ammesso che fossero ancora muniti del senso dell'udito dovessero preferire la scala cromatica e le dissonanze ancora non avevo letto o divorato come sarebbe accaduto sul voggere dei vent'anni il dottor Faustus di Thomas Mann e la vicenda tenebrosa del compositore Adrian Leverkin il mio era diventato un divertimento a sé collaterale alternativo alla consueta immersione solitaria generalmente notturna nell'universo musicale era un'esperienza nuova un ascolto condiviso in un contesto di penombre fumo di pipa e silenzi assorti inutile dire che in cima alla hit parade c'era sempre la notte trasfigurata per Sestetto d'Archi di Schoenberg versione 1899 la mia musica dall'ora a oggi la mia radiografia musicale consolante ai fantasmi della mia psiche ma il bicchiere incespicava balbettava alla fine compresi che se musica doveva esserci bisognava puntare su Léon Martinot com'è possibile non averci pensato prima che producono suoni e melodie di speciale affinità con il mondo delle ombre e dei misteri metafisici ma fu tutto inutile il più deluso dei reiterati insuccessi del bicchiere era proprio Giovannino Klopp la cui fede nelle comunicazioni con i defunti era incrollabile ben presto scoprì che per far muovere il bicchiere non era necessaria la molteplicità delle dita la catena quando restava solo il suo dito il bicchiere andava più veloce e più determinato verso le lettere era così veloce che non riuscivamo a decifrare le parole interpellato dalla nostra curiosità Giovannino rispondeva tra l'indisponenza e il buffo che aveva posto allo spirito domande mentali e aveva avuto le risposte che gli servivano finalmente senza il nostro intraccio Giovannino riusciva a parlare scorrevolmente con gli spiriti non era certamente il primo né l'ultimo a confondere l'incoscio con l'oltretomba quando dopo cena nottefonda andava via all'improvviso mi prendevo una stretta al cuore me lo figuravo ingobbito e freddolito dalla povertà e dalla solitudine inghiottito dalla notte e dalla città deserta non mi sfiorò mai il pensiero che il gioco del bicchiere potesse attirare in casa nostra uno spirito che poi vi rimanesse per la notte ma tutta quella pantomima quel teatro di penombre e di musica e quell'atmosfera gotica che ci sforzavamo di allestire mi si rivelava come una metafora della deriva umana lasciandomi addosso un gelo più spaventoso della carezza di un fantasma insomma questa presentazione ha preso un tono troppo serio un tono troppo serio in realtà poi il libro grazie a Dio è pieno di risodi diciamo così più pittoreschi leggeri come quello della moglie del dentista che nel 1940 marito e moglie frequentano un gruppo di sedute spiritiche e lo spirito comincia a corteggiare la moglie del dentista e la corteggia in maniera così convincente che la moglie si innamora dello spirito e la cosa finisce in tribunale si finisce in causa di divorzio e quando poi il giudice chiede a questo dottor Boyle non mi ricordo come si chiama e diceva come lei è ma contro un fantasma non si può fare niente che dobbiamo fare e quindi i due divorziano ora questo episodio mi ha fatto venire in mente un'altra cosa perché poi io procedo per associazioni di idee molto personali e arbitrarie ma fa così ridere il fatto che una donna si innamori di un fantasma certo il fantasma è privo di alcuni requisiti molto rilevanti nelle relazioni extraconiugali un fisico palestrato un dorace a tartaruga non ce l'ha anche diciamo beni materiali diciamo gioielli che possa regalare no insomma quindi è un amore spirituale puramente spirituale quindi tanto più encomiabile però mi è venuto in mente il film Air di una diecina di anni fa forse forse qualcosa in più in cui un uomo si innamora di un software e cosa che non ci fa tanto ridere oggi come non è non è non è una prospettiva umoristica e oggi che si parla di intelligenze artificiali mi è venuta in mente anche un'altra cosa ma se noi questo software nel film il software era diciamo un interlocutore attraverso il computer ma se questo software questa intelligenza artificiale molto sofisticata e molto seducente venisse immessa in un robot antropomorfo ovviamente non robot come quello del mago di Hobbes fatto di latta con tessuti molto simili con sembianze diciamo così umane come peraltro sono stati immaginati cento anni fa più di cento anni fa da Karel Ciapek nel famoso dramma Rur famoso se non altro per il fatto che in quel dramma fu inventata la parola robot che non esisteva Rossumo di universalni robot l'acronimo era Rur in cui si immaginavano questi robot fatti con tessuti in tutto e per tutto simili d'altra parte Blade Runner voglio dire io credo che ci io non sono un appassionato di fantascienza quindi immagino che esempi del genere ce ne siano tanti robot esistevano già prima non si chiamavano molto più recentemente McEwin c'è un romanzo macchine come me perciò dico è una cosa molto inquietante ma i robot esistevano già da prima dall'epoca perlomeno dall'epoca del golem poi c'è la creatura di Frankenstein poi c'è il robot più famoso della nostra letteratura che è Pinocchio Pinocchio è a tutti gli effetti un robot però diciamo con sembianze non allora se immaginiamo un'intelligenza artificiale innestata e mi viene in mente che qualche anno fa ci fu all'università di Sororso va bene in casa un convegno intitolato la famiglia il diritto di famiglia all'epoca io facevo il diritto di famiglia quindi partecipavo a queste cose strane il diritto di famiglia nell'era digitale c'era un convegno serio c'era Massimo Bianca c'era Salvatore Patti c'era Fernando Bocchini insomma giuristi di primissimo piano buonare le anime sono tutte buone ma per carità non evochiamo nessuno nominiamo senza evocare e qualcuno tirò fuori una relazione il matrimonio con i robot io pensavo il matrimonio con i robot sarà che ne so un algoritmo che ti trova l'anima gemella no no matrimonio con i robot in Giappone si ipotizzava il matrimonio di un vivente con un robot poi mi sono chiesto beh a questo punto pure tra due robot direttamente ma comunque e veniva presa molto seriamente questa cosa allora noi ci divertiamo all'idea che la moglie del dentista si sia innamorata del fantasma ci fa ridere questa cosa ma io forse per l'età a una certa età uno comincia aggiungerei donna flora e i suoi due mariti c'è un capitolo su questo c'è un caso di due emigrati polacchi di cui la moglie ha una tresca con il primo marito defunto e il secondo marito diciamo non gradisce questa cosa ed è un caso giudiziario documentato di 60 anni prima della pubblicazione del romanzo di donna flora il secondo marito picchiava la moglie perché la trattiva e giudizi dice non è una buona ragione per picchiare con la moglie il fatto che ti tradisce con il defunto primo marito e diceva no ma in generale voglio dire innamorarsi di un fantasma è una cosa ancora romantica rispetto a innamorarsi di un algoritmo di queste sarà l'età che mi fa avvolgere all'indietro l'intelligenza artificiale grazie a Dio non mi interessa per niente non mi incuriosisce per niente forse perché in prospettiva futura ne vedrò poco invece il mondo di ieri d'altra parte ecco c'era una frase che ho letto di recente di Luis Gluck poetessa americana morta qualche giorno fa proprio in con comitato della morte ricordate è proprio 2021 sì insomma recente premio Nobel la quale dice guardiamo il mondo una volta sola da bambini tutto il resto è memoria quindi voglio dire mi trovo più a mio agio con queste storie fantastiche non con gli algoritmi è pur vero che appunto tutto quello che avete detto ci fa capire come questo libro al di là delle questioni delle storie ci dà tantissime suggestioni e quella appunto dell'intelligenza artificiale che in qualche modo è una suggestione è molto importante perché ci porta a riflettere su temi e quelli dell'identità il tema di di una realtà altra che può in qualche modo riprodurre quello che è l'umano sentire e quindi si potrebbero aprire squarci molto grandi su questo su tutto questo ed è anche molto moderno però proprio a proposito delle suggestioni che questo libro ci dà suggestioni che tra l'altro poi dopo ci danno la possibilità di approfondirle perché alla fine ha una ricchissima bibliografia una bibliografia di testi giuridici di testi appunto dedicate allo spiritismo quindi veramente ci dà modo innanzitutto che la bibliografia che supporta la quantità di informazioni di cui Massimo ci ha veramente arricchito grazie a questa pubblicazione ma ci dà veramente l'opportunità di approfondire magari qualche piccola tematica chi vuole approfondire quella dello spiritismo che vuole approfondire è quella della metafantascienza è una molto interessante un altro filone interessante e che Massimo affronti in alcuni dei suoi capitoli è quello della fotografia legata all'aldilà allo spiritismo anche lì ci sono dei casi che sono andati in tribunale e attraverso questi casi Massimo ci racconta anche un po' di fatti tecnici di come avvenivano queste stampe tra i vari si era gli inizi della fotografia la fotografia fatta con le lastre e il trucco era molto semplice si preparava si predisponeva la lastra con delle immagini e poi dopo con quella lastra predisposta si faceva la fotografia alle persone che vedevano poi in quelle ombre che erano state preparate in precedenza i propri antenati i propri familiari defunti la cosa interessante è che poi questi fotografi finivano sempre in tribunale insomma imputati di di truffa di frode e il caso che la dice lunga sulla diciamo sulla sull'idea che si arriva dei fantasmi è che uno di questi fotografi un fotografo francese confessa in giudizio dice sì è tutto è tutta una truffa io preparavo le lastre così ecco lì poi facevo credere avevo dei modelli delle modelle che si prestavano prima mi facevo descrivere le sembianze dei familiari defunti dei miei clienti per poterle un poco poi preparavo queste lastre facevo la fotografia e i miei clienti erano convinti di vedere dietro di loro loro seduti dietro delle loro spalle magari con una mano poggiata sulla spalla protettiva i loro antenati questo confessò fu condannato poi andò diciamo espatriò e molti suoi clienti restarono convinti che invece le fotografie erano autentiche che la confessione al fotografo era stata estorta e che invece loro effettivamente avevano le fotografie con i loro antenati il caso più singolare delle fotografie è però quello delle fate di Gottingley questo è veramente incredibile inizio del novecento due ragazzine due bambine proprio adolescenti due cucinette di una famiglia angiata inglese si fanno prestare la macchina fotografica dal padre e nel giardino scattano delle fotografie che poi i genitori fanno sviluppare e in queste fotografie compaiono delle fate le piccole fate diciamo tipo non so se avete presente Trillidi del film di Viterbanne insomma fatine così e dopo di che i genitori sottopongono queste fotografie al solito circolo di spiritisti e tutti restano sorpresi a libidi ma naturalmente a loro mica la si fa sottopongono queste fotografie accuratissimi studi per vedere se erano manipolate se c'era la doppia esposizione e insomma a tutti i controlli le fotografie risultano autentiche non c'è nessuna doppia esposizione nessuna manipolazione precedente successiva sono assolutamente autentiche e chi si interessa molto in questa vicenda è Arthur Conan Doyle che era un convinto spiritista nonostante che Sherlock Holmes sia un razionalista assoluto e il suo autore era l'esatto contrario e lui scrive dei saggi su queste fate di Cottingley che è la località dove e nel 1930 il buon Arthur Conan Doyle muore convinto di aver visto almeno in fotografie le fate anni 70 75 80 1975 un giornale va a pescare due anziane signore inglese e sono le due bambine e fa un'intervista a queste signore diceva vi ricordate quella storia delle fate di giardini delle fate delle fotografie delle fate e loro dicono candidamente ma sapete come quelle fate che cos'era noi da un libro ne avevamo ritagliate avevamo messo dei sostegni dei legnetti di sostegni eravamo collocate nel giardino come oggi farebbero con le barbe voglio dire e abbiamo fatto queste fotografie cioè a distanza di decenni dopo specialisti che si erano occupati di questa cosa esce fuori la verità che è veramente i bufazzetti sì i bufazzetti e questa cosa è la foto era reale aveva un futuro che fa l'altro di bufazzetti era reale ma è paradossale questa cosa non riesco ad agganciare niente posso passare l'ultima cosa mi veniva in mente credo che l'ultima sentenza italiana napoletana non italiana napoletana riguarda è descritta nel capitolo l'intercapedine perché là qualche modo avevo più e lì in effetti non c'era un elemento metafisico perché cosa succede che un avvocato credo stipula un contratto preliminare alla via duomo un contratto preliminare per l'acquisto di un'abitazione e nel fare i lavori di strutturazione insomma abbattono un tramezzo e ci trovano le ossa dentro uno scheletro uno scheletro più alcune ossa di un secondo scheletro e allora lui insomma agisce contro il promittente venditore e in effetti qua torniamo a quello che dicevo all'inizio cioè di come ciò che rileva non sia il fatto metafisico in sé ma ciò che è stato eventualmente taciuto dalla controparte perché qui andò male la causa ovviamente perché chiaramente qui neanche il venditore verosimilmente conosceva che quello stava dentro al muro però io mi ricordo un mio amico avvocato mi parlò vari anni fa di che cosa il padre entrò in trattativa per l'acquisto della casa al Circeo dove avvennero i noti fatti ora credo che non mi ricordo se fece anche il preliminare però poi quando lui seppe questa cosa prima di fare il definitivo fortunatamente parlò con la controparte e loro poi arrivarono a una risoluzione consensuale eppure voi dite scusate ma io mi compro una casa razionalmente la casa è casa no però perché abbiamo questo 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 diciamo onesta io qualche altitudine ce l'avrei a comprare la casa no lo stigma della maledetta che sarà una risonanza no una cosa quante volte uno pensa all'idea che rimane qualche traccia o qualche cosa no insomma quindi non è che sono cose di tanto fantasiosa ma penso che ci stiamo avviando alla conclusione magari qualcuno vuole fare qualche domanda un massimo una curiosità non lo so avete qualche curiosità siamo stati esaustiti l'abbiamo l'abbiamo no ecco forse si può diciamo per cento allora per cento 95 pagine del libro io ho cercato di essere sempre ambiguo senza mai prendere posizione però a pagina cento 95 io ho dovuto ho dovuto prendere una posizione precisa e dire finalmente chi sono i fantasmi in tribunale perché poi uno dice vabbè i fantasmi in tribunale chi sono questi fantasmi in tribunale e a pagina cento 95 per chi ci arriva per chi arriva perciò ve lo leggo così non c'è bisogno che vi leggete nei primi cittadini e allora voglio non me lo devo dire no è l'esmirazione sui i veri che andrà sull'intervista è un mastro di rumore non c'è una clara 180 ma invece non vuole leggere però io voglio dire una cosa agli amici però io dai sorrisi che già vedo a parte conoscendo e da quello che stanno comprendendo ma stanno ridendo troppo questa è la presentazione del libro serio che loro ridono ma che ridono da autore anche umoristico perché insomma che è un libro godibilissimo per la narrazione e vorrei anche chiedere ai signori politici di non usare più questo questo aggettivo la narrazione la possiamo fare noi 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 chi scrive narra chi si è proprio diceva il racconto del consiglio quello racconto volevo dirvi la narrazione di questo libro è dolcissima è delicata gustosa è un libro che si può tenere sul comodino perché io per esempio dico sempre senza paura sono stati fantastici no 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 sono stati fantastici no dico sempre che nel mio caso sono un maturo emergente nel mio caso non finirò mai un libro senza un lieto fine e in questo caso è tutto un percorso lieve allegro io ci ho letto i grandi autori brillanti degli anni 70 abbiamo un'età in cui moltissimi hanno potuto leggere Luca Goldoni e gli altri adesso di cui non mi ricordo i nomi ma di quella scrittura allegra gustosa e questo e poi dopo giudice prima Marecce la cosa risponde di bene ha fatto una bella scena risponde di bene va bene allora io vi ringrazio vi ringrazio Massimo vi ringrazio Michele vi ringrazio Maria vi ringrazio tutti voi perché veramente vedervi sorridere vedervi partecipare con con empatia e secondo me è il più grande successo di quello che abbiamo fatto stasera grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.